Io sono un instancabile sognatore e ho iniziato da qua. Qui è quando ho immaginato di essere un futuro Presidente del Consiglio. Io sogno nel 2029 di essere il premier italiano. Ho immaginato di essere il futuro Presidente del Consiglio perché tutti pensano un giorno di poter diventare astronauti, chi pompiere, chi dottori. Nessuno vuole fare Presidente del Consiglio, io sì. Però oggi non vi parlo di questo e non vi parlerò nemmeno delle persone che ho incontrato. Io vi parlerò della potenza dell'incontro e vi parlerò dell'arcobaleno. A me non piacciono gli arcobaleni. Non mi piacciono perché non sono capace di vederne la bellezza, però amo immaginarli. Amo immaginarli negli incontri con le persone. Ma soprattutto l'arcobaleno è qualcosa che si può descrivere al meglio l'incontro con una persona. Immaginate due elementi. Per far sì che nasca un arcobaleno non basta osservare. Abbiamo bisogno dell'acqua e l'acqua è un elemento vitale, è un elemento importante. L'acqua non è solo in natura, è nel nostro corpo. E poi abbiamo bisogno della luce. Perché la luce è quell'elemento che dà gioia, bellezza, ed è quell'elemento che ti permette poi di dar risalto a quello che può essere o meno anche solo una goccia d'acqua. L'arcobaleno noi lo vediamo, lo possiamo vedere nelle persone, lo possiamo osservare, soprattutto lo osserviamo quando camminando ci accorgiamo che dopo una tempesta, quando rinasce il sole, osserviamo delle luci e man mano che noi ci avviciniamo verso l'arcobaleno poi dopo un po' sparisce, poi dopo un po' ricompare, poi dopo un po' sparisce e poi dopo un po' ricompare. Perché l'arcobaleno è qualcosa che non è fisso. Per cercare l'arcobaleno ho bisogno di muovermi, ho bisogno di spostarmi in una direzione, ho bisogno di cambiare prospettiva. E quindi immaginate di applicare questo nell'incontro e provo ad raccontarvi il perché io in tutti gli incontri che faccio con qualsiasi persona cerco di cercare l'arcobaleno. L'arcobaleno ha sette colori. Io sono partito dall'ultimo, il viola. Il viola indica mistero. Prima di incontrare una persona, voi quella persona non necessariamente la conoscete. Vi fate un'idea, provate a pensare a come quella persona può pensare, ragionare, immaginare un qualcosa. Prima di incontrare una persona, voi pensate di sapere già qualcosa di quella persona. Magari andate a cercare in internet se esiste qualche informazione. Andate a cercare un'informazione particolare, cercate di conoscere e di individuare un sapere o una conoscenza particolare. perché voglio tornare qui, perché vi devo dare la definizione dell'arcobaleno. Perché l'arcobaleno è un fenomeno ottico, o meglio questo c'è scritto, quando voi andate a cercare l'arcobaleno. L'arcobaleno è un fenomeno ottico che produce uno spettro quasi continuo di luce nel cielo quando la luce del sole attraverso le gocce d'acqua rimaste in sospensione. E quello che rimane in sospensione è il mistero. Dopodiché segue l'idea. Se si supera la fase di mistero con una persona, e quindi ho immaginato di essere, quantomeno un pochino più vicino a quella persona, e inizio a parlare di idee. E se c'è la condivisione di idee, le idee non nascono dal nulla. L'idea nasce dal sapere. Iniziamo a condividere conoscenze. E se condividiamo conoscenze, allora significa che stiamo trovando un punto di incontro. Perché significa che non siamo più su due piani completamente separati, e su due piani paralleli, ma siamo lì sulla stessa lunghezza d'onda. Abbiamo superato il mistero. Abbiamo parlato di idee. Abbiamo condiviso il nostro sapere. E la condivisione deve ora arrivare all'esterno. Insieme con le persone con le quali ci siamo incontrati dobbiamo iniziare a parlare fuori. Dobbiamo iniziare a capire se la nostra condivisione di idee, di sapere, di conoscenze può creare qualcosa per gli altri. Ed è qui che nasce la fiducia. E la fiducia è il giallo. Il giallo perché apre, si allarga. Se io mi fido di una persona, significa che mi fido abbastanza per poter iniziare a svolgere un'azione con quella persona. mi metto in moto e faccio qualcosa. E se io inizio a fare un qualcosa, mi aspetto di avere successo. Non è il mio successo personale, non è il successo della persona che ho incontrato. il successo è quella cosa che insieme, unendo tutti i passaggi dal mistero, dall'idea, dal sapere, dalla condivisione, dalla fiducia, dall'azione, successo. Il successo è quella cosa che si crea insieme. È quella cosa che ci siamo incontrati, abbiamo superato le nostre barriere, e abbiamo fatto qualcosa. Già solo il fatto che si è fatto qualcosa insieme significa che quella relazione ha avuto successo. Ma non necessariamente col successo abbiamo cercato e abbiamo trovato l'arcobaleno tra le due persone. Perché esiste un secondo esercizio da fare. individuare, ovvero individuare se si è acqua o se si è luce. Perché se si è acqua significa che in quell'incontro c'è qualcuno che arriva forte come una tempesta oppure ti permette di rimanere in vita perché ti disseta. se si è acqua all'interno di quell'incontro il tuo pensiero deve diventare quello di ok, ma cosa succede nel momento in cui incontro una persona che è luce per me? Cosa succede nel momento in cui io incontro quella persona che mi permette di o dissetare gli altri o di far accadere tempeste? E se si è luce? Se si è luce bisogna individuare se all'interno in una stanza io riesco a far brillare gli altri. Allora lì è la potenza dell'incontro. Se nel momento in cui entro gli altri si illuminano. E se gli altri si illuminano bisogna capire chi dentro quella stanza è acqua. Perché se individuiamo le persone e ogni incontro lo immaginiamo come devo capire se sono acqua o sono luce allora io posso permettermi di capire quello che è il passo successivo. Perché la potenza dell'incontro è sempre una ricerca dell'arocobaleno. io nella mia vita avevo 26 anni ho avuto la possibilità di incontrare tantissime persone. Persone che questo mondo lo hanno influenzato. In positivo. Chi più chi meno. Ho avuto la possibilità di cenare con Barack Obama. Ho avuto la possibilità di avere una cena privata e di parlare per tre ore con un premio Nobel per la pace. Muhammad Yunus, premio Nobel per la pace nel 2006. Ho stretto la mano a Ban Ki-moon. Ho avuto una conversazione di 10 minuti con Tim Cook della Apple. E così via. Ma non è quello l'elemento di distinzione. Non è quella la potenza dell'incontro. Quello è un acceleratore. Mi ha permesso poi di poter avere la possibilità di incontrare tantissime altre persone. e dedico 40 giorni all'anno a incontrare persone di cui non so assolutamente nulla. Persone che mi scrivono online e mi chiedono Ciao Valentino, ho letto la tua storia. Per me tu sei d'ispirazione. E io a loro rispondo scegli un giorno, scegli una città, incontriamoci. Tu per me puoi essere d'ispirazione perché la tua storia io non la conosco. Tu la mia l'hai letta. Ma io la voglio, la tua la voglio sentirmi dire. Bisogna capire se in quella persona e in quella circostanza io ho la possibilità di andare oltre. Non posso fermarmi a pensare che io sono luce e l'altra persona è acqua. O viceversa. Il mio pensiero deve viaggiare oltre. Devo capire dietro quella persona che cosa resta. Devo capire qual è la mia azione successiva. devo capire cosa ci permette a superare ogni tipo di fase, ogni colore. Dal mistero, dall'idea, dalla condivisione del sapere, dalla condivisione di tutto quello che è successo prima, dall'azione al successo. ho bisogno di capire se quella persona poi ha la possibilità di essere d'impatto per tante altre persone. Mai ragionare con io. Posso essere importante per loro. Noi possiamo essere importanti per tante altre persone. Io da solo posso essere importante per una persona perché io prima di essere importante per lui sono stato importante per qualcun altro e qualcun altro, qualcun altro ancora. E perché qualcuno mi ha fatto pensare a quanto essere il più possibile incisivo per gli altri. Dedico gran parte del tempo a raccontare di storie e di ascoltarne tante altre. Ascoltate. Ascoltate quello che vi arriva dentro in ogni parola che una persona vi racconta. Iniziate a pensare quello che può essere all'interno del vostro io la vostra parte di colore. Cercate di essere positivi. Sorridete. e non prendetevi sul serio perché siamo comunque umani. Io sono un essere umano come qualsiasi persona in questa stanza. È l'essere umano che fa la differenza. Potete chattare con centinaia e migliaia di persone. Potete sentirle via Skype. Potete parlare con loro in qualsiasi tipo di mezzo. ma l'incontro con una persona determinerà se o meno può nascere un arcobaleno tra le due persone. L'incontro con una persona ti permette di individuare o meno se tutte le sette fasi si possono completare. Perché se non ci si incontra non superiamo mai la fase del mistero. se non ci incontriamo non abbiamo la possibilità di condividere delle idee nel momento in cui il nostro pensiero viaggia nello stesso istante. Se non ci incontriamo non abbiamo la possibilità di condividere il sapere che nasce in quella stanza, in quel momento, in quell'incontro. se non ci incontriamo non possiamo fare un'azione. Se non ci incontriamo nel nostro incontro non può succedere e non succederà un successo. Vuol dire che non abbiamo avuto impatto per gli altri. Siate sognatori. Io sono un instancabile sognatore ma cercate l'arcobaleno. Grazie. Grazie. Grazie.